Buonasera, benvenuti, benvenute. Avete trovato tutti i posto circa? Siete sistemati? Siete pronti? Possiamo cominciare? Sì, dammi date l'assenso, bene. Allora cominciamo questo penultimo appuntamento della diciannovesima edizione del Festival Biblico. Un festival che ha girovagato lungo il Veneto, ormai lo sapete, 19 anni fa è nato qui a Vicenza per volontà degli attuali enti promotori, Diocesi di Vicenza e Società San Paolo e poi negli anni si è ampliato territorialmente, quindi da Vicenza è poi passato in contemporanea a Verona, Padova, Rovigo, Vittorio Veneto e da quest'anno anche a Chioggia. Quindi è una cosa trasversale, anche un po' inedita, devo dire, un progetto interdiocesano che ha questo obiettivo di sviscerare, ho usato questo termine in questi giorni, stropicciare le parole delle sacche scritture per capire cosa le sacche scritture possano suggerire a questa nostra contemporaneità, a noi e al tempo che viviamo. Quindi è una finalità assolutamente culturale quella che ci proponiamo e perché riteniamo che comunque le sacche scritture siano un codice sufficientemente affidabile per darci qualche dritta, qualche direzione per abitare questo tempo. Detto ciò, in questa diciannovesima edizione abbiamo deciso di farci guidare da Genesi 1.11 perché, non sto ad annoiarvi adesso, aveva diversi motivi di pertinenza alla contemporaneità e uno di questi è quello di cui parliamo questa sera. Un po' tutti conoscete, avete letto, anche solo pensando ai tempi del catechismo da fanciulli e fanciulle, le pagine relative alla creazione, quindi come Dio ha creato il mondo e quale armonia ci fosse in quelle pagine così descritta. Stasera noi parliamo di quella che è, quantomeno dai dati che abbiamo, dalle evidenze, dalle esperienze che facciamo, è quello che è il cambiamento climatico, questa transizione climatica piuttosto disordinata, complicata, complessa e che ci riguarda soprattutto. Ecco, questa forse è la parte più interessante, ci riguarda perché ha a che fare con il creato che abitiamo. L'ultima cosa che vi dico è questa prima di far entrare i nostri ospiti. Questa mattina Monsignor Guggerotti, il prefetto per il Dicastero delle Chiese Orientali, diceva nella sua meditazione che la creazione, le pagine della creazione che lui ha collegato al Salmo 104, ci richiamano a un necessario ripristino di armonia, non di ordine, ma di armonia, che è un termine più gentile, meno aggressivo. Per cui forse questo è un obiettivo da porci, lui era anche chiamato Shalom a un certo punto, cioè una pace più ampia, complessiva, non è solo lo stare bene, è lo stare bene con il posto in cui abito e le persone che lo abitano, insomma tante più cose un po' più larghe. Allora io mi fermo, poi ricordandovi che ci sono anche i libri in vendita alla fine, giusto se qualcuno vorrà approfondire gli argomenti di questa sera, e chiamo quindi i nostri ospiti Chiara Tintori, Antonello Pasini, Franco Farinelli e a moderare la giornalista del quotidiano Avenire, Lucia Capuzzi. Un applauso. Buonasera davvero a tutte e tutti. Grazie, grazie di cuore a questo festival biblico, grazie per il tema scelto quest'anno, grazie a tutti voi che state partecipando qua. È meraviglioso vedere questa location stupenda, piena di persone, abitata da tante persone che sono qua per conversare con i nostri relatori di cambiamento climatico, ma non visto come fenomeno scientifico solo dal punto di vista scientifico, ma come un fatto umano che riguarda tutte e tutti. Siamo giunti al penultimo appuntamento, lo diceva prima la direttrice Roberta Rocelli di questo festival. Proviamo a tirare un attimo le somme, no? E ripartiamo da questa parola biblica che è stata scelta come tema di quest'anno. Genesi 1, in principio Dio creò il cielo e la terra. Inizia così. Poi Terak prese Abraham suo figlio e Lot figlio di Aran, cioè suo figlio, e Sarai sua nuora, moglie di Abraham suo figlio, e uscì con loro da Ur dei Caldei per andare nel paese di Canaan. Arrivarono fino a Carran e vi si stabilirono. Questo è l'ultimo verso di Genesi 11. Siamo partiti da Dio che creò il cielo e la terra e poi è arrivato l'uomo, la famiglia umana e con lui tutte le meraviglie e i problemi connessi alla difficoltà di relazione umana con altri uomini e con altre donne e con l'ambiente. Diamo subito il benvenuto ai nostri relatori. Vedete qua alla mia sinistra il professor Antonello Pasini, ricercatore fisico-climatologo e docente di fisica del clima dell'Università Roma 3. Alla mia destra il geografo Franco Farinelli e, last but not least, Chiara Tintori, politologa ed esperta del Magistero Sociale della Chiesa. Iniziamo subito con un primo giro di domande perché appunto i nostri ospiti hanno molto da dire sulla questione e inizierei subito dal professor Pasini a cui chiederei, partiamo un po' dall'attualità, in queste ultime settimane abbiamo tutti assistito dalle immagini sui social, dalla televisione, dai giornali, alcuni che hanno amici o parenti alla tragedia che ha colpito l'Emilia-Romagna, più la Romagna dell'Emilia. E molto spesso è stata liquidata come maltempo. Ci si è concentrati sulle eventuali responsabilità umane, però troppo spesso anche nel dibattito pubblico si è dimenticato che questo non è semplicemente maltempo, ma che è la conseguenza di un cambiamento o di un impazzimento generale del clima che ha delle evidenti responsabilità umane. Professor Pasini, cosa centra il cambiamento climatico con le alluvioni che hanno flagellato la Romagna? Ma guardi, innanzitutto diciamo che noi climatologi siamo sempre molto cauti a attribuire un singolo fenomeno al cambiamento climatico perché ovviamente si devono fare studi a posteriori. Fino a qualche anno fa io e i miei colleghi dicevamo che bisogna vedere la tendenza, la frequenza di questi fenomeni. Nel tempo si stanno aumentando dal punto di vista osservativo e così via. Oggi possiamo fare effettivamente di più, cioè domani faremo a posteriori, a bocce ferme, studi su questo, per esempio, evento con i nostri modelli climatici e cercheremo di vedere quanto un evento di questo tipo sarebbe stato probabile, per esempio in epoca preindustriale, lasciando la stessa situazione meteorologica ma cambiando altri parametri, per esempio la temperatura del Mediterraneo. Sapete che il Mediterraneo è sempre più caldo, questo è estremamente importante per andare a vedere se c'è lo zampino del cambiamento climatico. Comunque qualche evidenza già ce l'abbiamo, nel senso che uno pensa sempre al cambiamento climatico, al riscaldamento globale come qualcosa che aumenta la temperatura media. Ma della temperatura media il fatto che sia aumentata di un grado 1,1 negli ultimi 100 anni certamente noi non ce ne accorgiamo. Ci accorgiamo del fatto che questo aumento di temperatura media è collegato anche all'aumento di eventi estremi. Eventi estremi di caldo molto forte, eventi estremi di piogge molto violente. Perché? Perché nel Mediterraneo il cambiamento climatico di origine antropica, questo lo diciamo tanto per mettere in chiaro le cose, il cambiamento climatico attuale, il riscaldamento globale recente, quello degli ultimi 60 anni, è stato creato dalle nostre emissioni di gas serra in atmosfera, la CO2, tutte le combustioni di combustibili fossili, il fatto che deforestiamo, il fatto che a volte facciamo un'agricoltura non sostenibile, poi magari potremo approfondire questa cosa. Quindi insomma l'uomo è entrato in questo giardino dell'Eden, ha fatto qualcosa che forse non sapeva essere negativo, adesso lo sappiamo, come dobbiamo porci rimedio. Ma cosa succede nel Mediterraneo? Cambia la temperatura media, cambiano gli eventi estremi, cambia la circolazione dell'aria. Cioè la circolazione che interessava l'equatore e i tropici si sta espandendo verso nord, quindi sempre più frequentemente arrivano questi anticicloni africani. No, la parola magica del colonnello Bernacca, che qui vedo alcuni giovani, ma vedo anche molti diversamente giovani, che si ricorderanno il colonnello Bernacca, la parola chiave all'inizio dell'estate, entra o non entra l'anticiclonio dell'Azzorre? Ecco, adesso questo anticiclonio dell'Azzorre è stato sostituito quasi sempre dagli anticicloni africani, che vengono su in maniera molto forte e portano caldo estremo, ma quando se ne tornano sull'Africa, perché non hanno la forza di rimanere sempre su di noi, arrivano le correnti fredde, che quando contrastano con questa aria calda e umida preesistente, questo mare caldo, creano questi eventi violenti, le alluvioni lampo, i chicchi di grandine grossi come la palla da tennis, eccetera. Cosa centro questo con l'emilaronio? C'entra perché un'altra parola chiave del colonnello Bernacca era deboli perturbazioni di origine atlantica. Infatti il flusso nel nostro Mediterraneo è sempre stato da est verso ovest, con deboli ondulazioni del flusso, quando arrivava la valle di questa onda arrivava il maltempo, quando arrivava la cresta arrivava il bel tempo. Quindi le nostre primavere erano veramente variabili, un giorno bello, un giorno brutto, il classico tempo primaverile, insomma. Adesso invece, con questo fatto che la circolazione si mette sempre più da sud a nord e da nord a sud, queste onde sono diventate più lunghe, cioè pescano a sud, poi vengono a nord e così via. Ma fisicamente le onde lunghe sono più lente. Quindi questo treno di onde ha rallentato fino a fermarsi. E la situazione del 15, 16, 17 maggio, la seconda ondata, è tipicamente questa, ma anche quella della prima ondata. Cioè, quando le onde sono lunghe e si fermano in un posto, il bel tempo si può portare per settimane, ma anche se sei nel cavo dell'onda, il brutto tempo. E così è successo in Romagna adesso. Cioè, arrivavano correnti da nord che scendevano verso sud, più contrasto termico, quindi precipitazioni più violente, ma soprattutto una persistenza per giorni di queste precipitazioni. E quindi, vedete, questo è un indizio molto forte che questo cambio di circolazione dovuto al riscaldamento climatico si è protratto fino a questi ultimi giorni e ha creato cose di questo tipo. Poi, come dico, appunto, gli studi più forti, più veri dal punto di vista più pesanti, dal punto di vista scientifico, li faremo. Ma c'è un grosso indizio che, insomma, in questo evento ci sia lo zampino del cambiamento climatico. Grazie, grazie di cuore, professore. Tra l'altro, appunto, lei aveva approfondito proprio l'aumento dei disastri in Italia nel libro che, tra l'altro, è venuto anche qua ai banchetti, L'equazione dei disastri, edito da Codice, che... Il sottotitolo è cambiamenti climatici su territori fragili. Perché, se posso aggiungere un minuto ancora, il problema vero è che il cambiamento climatico, gli eventi estremi climatici sono un pezzo, un fattore del rischio che noi corriamo su certi territori. Un altro fattore è la vulnerabilità del territorio. Noi sappiamo, per esempio, che abbiamo cementificato molto il territorio. Il cemento è impermeabile, l'asfalto è impermeabile. Quando cade questa pioggia violenta in una città fa disastri perché non si infiltra in profondità e va sul suolo. Altra cosa, ovviamente, questa mania di canalizzare i fiumi e di regimentarli entro argini è una cosa da cui noi dobbiamo uscire in qualche modo. perché è una cosa perversa. Cioè, se oggi abbiamo un argine di tre metri che non basta, lo portiamo a sei metri, ma se arriva una piena di sei metri, l'acqua che cade sul territorio è esattamente il doppio di quella che cadeva prima e non posso pensare ai disastri, cosa possono essere. Quindi dobbiamo avere un approccio più, come dire, alle cosiddette nature-based solutions, soluzioni basate sulla natura. La forza dell'acqua è immensa, non possiamo pensare di regimentarla sempre. Dobbiamo lasciare spazi liberi all'acqua perché defluisca. E l'ultima parte dell'equazione dei disastri è l'esposizione nostra e dei nostri beni. E qui c'è da fare un discorso di cultura del rischio. Da una parte bisogna sapere cosa fare quando arriva un evento violento e noi non lo sappiamo perché tanti morti sono stati perché sono andati a cercare di recuperare macchine in garage, cose di questo tipo. Quindi dovremmo insegnare a scuola questa cultura del rischio, come i giapponesi fanno con i terremoti, noi dovremmo farlo con gli eventi estremi. Ma questa cultura del rischio, e chiudo, dovrebbe essere anche una cultura della legalità. Perché quando facciamo un abuso e andiamo per esempio a costruire al di fuori del piano regolatore, nell'alveo di un fiume, gli italiani in generale, questa bestia di personaggio che è l'italiano, pensa sempre ma sì, chi se ne frega della legge, io faccio un abuso, tanto viene tutto a mio vantaggio a girare la legge. Non è vero, bisogna fargli capire che non è un vantaggio, ma è uno svantaggio, tu puoi perdere i tuoi beni qualche volta anche alla tua vita. Quindi l'equazione dei disastri mette tutti questi pezzi insieme e fa capire come sia importantissimo il lavoro sul clima, ma sia altrettanto importante il lavoro sul territorio e il lavoro sulla nostra mentalità. Diciamo così. Grazie, grazie infinite professore anche per la chiarezza. E passiamo al professor Farinelli che in un intervento recente ha scritto una frase che mi è molto colpito. Lei ha scritto che un cambiamento del concetto di clima avviene quando l'uomo sostituisce la carta geografica al mondo. Professore, è una missione di colpa che in fondo è tutta colpa di voi geografi? Magari, sarebbe molto semplice se fosse così, molto più semplice di quanto in realtà non sia. No. Però le cose sono un po' complesse da questo punto di vista, naturalmente. Proprio di quella complessità che nessuna carta geografica riesce a dare idea. Fino all'inizio dell'epoca moderna se uno diceva clima diceva un paese. Diceva un'estensione della superficie terrestre. Gli antichi già avevano distinto sette climi, qualcuno ci aggiungi un ottavo, che sono sostanzialmente le fasce climatiche temperate, subtropicali, tropicali, che ancora noi oggi abbiamo nella nostra cultura di cui ci serviamo per distinguere il rapporto che esiste tra l'inclinazione della terra e l'insolazione sostanzialmente. E che è il fattore principale del cambiamento climatico, della produzione appunto della temperatura. Ma il clima era qualcosa direbbero i filosofi di esistente. Cioè si poteva toccare. Il clima era qualcosa di solido e corrispondeva esattamente alla regione che si abitava. Era una regione terrestre. Oggi il clima è esattamente al contrario. È qualcosa che sovrasta la faccia della terra e influisce su di essa attraverso una serie di fenomeni che si possono misurare. La temperatura, la pressione, eccetera. La ventilazione, eccetera. Cosa significa questo cambiamento? E quando si è prodotto? Guardate che questo è il cambiamento fondamentale senza il quale non si arriva a comprendere la natura della modernità. cioè vale a dire dell'epoca in cui viviamo. Perché se ci fate caso parentesi che chiudo immediatamente ogni volta che si dice post-modernità ci si guarda bene dal dire che cosa diavolo sia. Siamo ancora moderni e non si sfugge. Se non attraverso qualche piccolo gioco linguistico. Dunque cosa significa questa rivoluzione? E che cosa comporta dal punto di vista che è importante la cosa più importante della nostra possibilità di comprensione di quello che sta accadendo. E perché qualcosa che era solida che tu potevi toccare diventa qualcosa di ineffabile qualcosa che di cui tu ti accorgi della cui esistenza ti accorgi il clima e sempre più si accorge dell'importanza fondamentale dell'assetto climatico ma che si è per così dire autonomizzata rispetto a ciò che significava fino a qualche secolo prima. dunque abbiamo bisogno di modelli diversi. Il problema del clima credo che sia un problema di modelli. Noi chiamiamo Terra lei dice sì io ho insegnato geografia per tanto tempo con un nome greco Ge Geo Gaia poi diventa un nome proprio femminile Gaia ma il primo nome della Terra sappiamo degli antichi greci non era questo il primo nome della Terra fa paura era Kton sembra quasi di sentire un sasso che cade dentro un pozzo perché Kton implica qualcosa che Geo che Gaia non conosce cioè implica la verticalità la profondità dunque la tridimensionalità del pianeta Gaia Gaia è qualcosa che ride e splende al sole è ciò che c'è in superficie e noi abbiamo ridotto la Terra a una superficie c'è una storia bellissima settimo secolo avanti Cristo l'operazione era già compiuta sostanzialmente delle nozze tra il cielo e la terra la racconto in un minuto e poi chiudo le nozze c'è la terra come avvengono ci sono talmente archetipiche talmente all'origine del nostro mondo che accadono quando ci sono soltanto tre entità non dico persone tre entità che esistono c'è la Terra c'è Zas Giove cioè il cielo e poi c'è il Dio del mare Nettuno Nettuno è sacerdote la Terra che si chiama Kton e il cielo Zas Giove entrano in matrimonio come avviene il matrimonio guardate avviene esattamente come avviene ancora oggi il modello è esattamente quello almeno mia madre si sposò così cioè vale a dire come lo sposo per un attimo la sposa si denuda e si può guardare l'abisso per un attimo dice il mito antico raccolto da Ferecide ma poi subito lo sposo addossa un mantello sul corpo nudo della sposa in quell'attimo dice il mito Kton non è più Kton perché non si vede più la verticalità la profondità l'oscurità l'abisso non si vede più e che cosa resta della Terra resta questo mantello perché su questo mantello ecco perché facevo riferimento al vestito con cui si sposò mia madre su questo mantello che è molto leggero sono ricamati dei motivi e questi motivi corrispondono ai fiumi alle città alle montagne dunque noi non conosciamo più la realtà noi ci dobbiamo per così dire accontentare di conoscere la rappresentazione della realtà la nostra idea di clima deriva esattamente da questa da questa operazione perché Kton la Terra che cos'è guardate vi faccio un esempio molto molto semplice dato il tempo che abbiamo a disposizione pensate a Galileo Galileo Galilei mette a punto una legge semplicissima che ancora oggi vale per noi quello della spiegazione causale come fa a mettere a punto il problema della spiegazione causale Galileo indica tre elementi la causa l'intervallo e l'effetto attenzione per distinguere la causa dall'effetto ci sono dispute scientifiche memorabili su questa questione precisa per distinguere la causa dall'effetto c'è bisogno di un intervallo altrimenti lo stesso Galileo lo sapeva perfettamente se non c'è un intervallo la causa e l'effetto se avvengono nello stesso tempo sono indistinguibili l'uno dall'altro e dunque non si può spiegare nulla Galileo sosteneva che l'intervallo dovesse essere temporale però sapete non esiste un intervallo soltanto temporale l'intervallo in realtà è spaziale causa intervallo effetto la terra in questo modello diventa che cosa diventa l'intervallo cioè è ciò che sta tra la causa che diciamo di natura celeste che sovrasta e l'effetto che vediamo sulla superficie della terra perché la superficie della terra è esattamente quel mantello a cui la terra lo raccontava Feregite è stata ridotta è un sottilissimo velo sotto il quale agiscono fenomeni potentissimi che restano sconosciuti e sopra il quale alla stessa maniera ma in senso opposto avvengono fenomeni cataclismatici il nostro modello è ancora questo e aggiungo qualcosa di di ulteriore rispetto a tutto ciò che però come dire aiuta molto bene a definire il nostro problema il clima è un insieme di fenomeni dinamici tutta la modernità e tutta la terra in epoca moderna altro non hanno fatto che suddividere la faccia della terra in tanti stati lo stato per definizione è qualcosa che non si muove è statico in realtà non è così in realtà lo dico da geografo non c'è un confine oggi degli stati che funzioni ancora davvero a segno del fatto che vi è bisogno di reintegrare la dinamicità all'interno stesso dei nostri concetti quelli che sembrano più stabili perché il funzionamento del mondo che per secoli è stato organizzato sulla base della staticità dei fenomeni oggi invece mostra torna meglio a mostrare la propria natura la sfida è questa ed è molto come dire chiudo qui almeno per il momento ed è molto va molto al di là di quelli che possono essere gli indici pulviometrici la pioggia che cade io credo che sia questo il momento l'epoca di rivedere in profondità la nostra concezione della terra proprio in funzione dell'ammissione del carattere dinamico assolutamente non statico dei processi che ne condizionano il funzionamento e ne decidono l'esistenza ed è un problema enorme di cui la quantità di pioggia che cade in una giornata che mette in crisi come nella regione dove abito con qualche difficoltà dal punto di vista politico perché finora la regione che abito si vantava di essere tra le più attrezzate ad ogni bisogno di tipo climatico bene questi fenomeni altro non sono che la manifestazione immediata che segnalano una cosa decisiva vale a dire la necessità che noi abbiamo di cambiare i nostri modelli che abbiamo sul mondo cambiare senza rivedere i modelli del passato io credo che sia impossibile un cambiamento autentico è semplicemente soltanto sempre frutto di memoria di un'autentica memoria io credo che la sfida culturale sia proprio questa in questo momento e con tutto ciò che sta accadendo nella mia regione in particolare ma prossime saranno le altre evidentemente io credo che il segnale che l'evoluzione climatica ci sta fornendo è esattamente questo cari uomini che abitate questo pianeta cambiate idea su questo pianeta cari uomini cambiate idea su questo pianeta è un messaggio molto forte in cui riecheggia io sentivo mentre il professor Farinelli parlava qualcosa che è presente questa ansia di cambiare il professor Farinelli parlava di modelli in altri casi si parla di cambiare paradigma e qua vengo appunto a Papa Francesco e al suo messaggio molto forte nella laudato sì con altre parole appunto invece di modelli paradigma invece di dirci che è una entità multidimensionale e dinamica Papa Francesco ci dice tutto è collegato allora chiederei alla dottoressa Tintori che l'ha laudato sì l'ha studiata a lungo e ha scritto e ha dedicato interventi importanti su questa enciclica perché questa enciclica che è stata scritta ormai otto anni fa fa ancora fatica ad essere recepita anche all'interno della chiesa e che cosa ci dice questa enciclica cosa significa al di là dello slogan dirci che tutto è collegato grazie grazie mille tra l'altro proprio oggi si conclude la settimana laudato sì che è quella settimana dedicata ormai una volta all'anno all'attenzione di questa enciclica ma prima di una premessa ecco prima di capire quali sono un attimino le difficoltà rispetto al paradigma dell'ecologia integrale oggi la premessa è legata al bisogno che noi abbiamo di cambiare i nostri codici culturali alla base dell'ambiente il primo codice culturale che abbiamo è quello del linguaggio allora mi chiedevo potrebbe essere oggi il tempo essere questo il tempo di non parlare più di cambiamento climatico ma di crisi climatica perché vedete il cambiamento può portare anche miglioramenti e attenua la percezione degli effetti devastanti del fenomeno se invece noi preferiamo l'espressione crisi climatica saremo portati a mettere in campo tutti quegli stratagemmi necessari propri nella gestione delle crisi abbiamo appena affrontato la crisi della pandemia allora avremo anche bisogno di una diplomazia del clima avremo bisogno di lavorare insieme a ogni livello per il bene comune perché la pandemia ci ha insegnato che dalle crisi non si esce da soli ecco tutte le volte che l'umanità ha superato una crisi l'ha fatto quando ha cooperato sempre sul linguaggio proprio come necessità di cambiare il nostro codice culturale ma com'è importante non accontentarci di parlare soltanto di transizione ecologica ma rileggendo Papa Francesco di parlare di conversione ecologica certo avremo bisogno della transizione degli sistemi economici di tutto ciò che comporta ad esempio il passaggio a delle energie meno inquinanti però che cosa vuol dire che c'è uno spazio di conversione ecologica che le strutture economiche e sociali non sono altro che una proiezione del nostro modo di pensare e alla fine una transizione ecologica senza una conversione rischia di essere un cambiamento esteriore ecco questa premessa dei codici culturali e del linguaggio credo che sia molto importante per inquadrare il tema perché se no rischiamo di ad esempio etichettare tutto come maltempo come la cronaca di queste settimane ci ha riconsegnato e non è così quali sono le fatiche rispetto all'ecologia integrale nell'enciclica Papa Francesco ci dice semplicemente che tutto è collegato tutto è connesso che non c'è solo una crisi ambientale ma che ci sono anche crisi sociali come se avessimo una medaglia a due facce da un lato abbiamo il grido della terra Papa Francesco usa questa espressione dall'altra il grido dei poveri se questo è vero se questo modello è capace di tenere insieme fenomeni e problemi diversi ambientali e sociali noi avremo bisogno sempre più di un'ecologia non solo ambientale ma anche un'ecologia del linguaggio come vi ho mostrato prima un'ecologia culturale un'ecologia delle istituzioni e arriverò anche alla politica un'ecologia finanziaria perché gli investimenti laddove noi mettiamo i soldi dice il tipo di rapporto che abbiamo anche con la terra ma quali sono i due grossi limiti che questo modo di pensare tutto in relazione incontra Papa Francesco lo dice molto chiaramente il primo è quello che lui chiama il paradigma tecnocratico non lasciatevi spaventare da questa espressione vuol dire il fatto che la specializzazione propria della tecnologia implica una notevole difficoltà ad avere uno sguardo d'insieme vuol dire che la cultura ecologica non si può ridurre a una serie di risposte urgenti e parziali ai problemi ambientali e sociali è inopportuno l'atteggiamento di chi ripone totale fiducia anche illimitata nella tecnica questo non vuol dire tornare all'età della caverna attenzione questo significa non sposare quella mentalità di chi pretende di risolvere i problemi che riguardano la vita degli esseri umani nella loro relazione con l'ambiente solo con strumenti di tipo tecnico un esempio fra tutti dinnanzi alle alluvioni di queste settimane non ci saranno mai delle opere idrauliche né degli argini abbastanza alti né delle casse di espansione sufficientemente capienti per gli eventi per mitigare questi eventi adattarsi alla crisi climatica con soluzioni ingegneristiche da sole che servono e attenzione le soluzioni ingegneristiche servono ma da sole vuol dire non aver capito la scala del problema secondo limite evidenziato da Papa Francesco è quello dell'eccessivo antropocentrismo Papa Francesco ci ricorda che oggi come oggi per affrontare le sfide che abbiamo davanti non è più il tempo di rimettere al centro l'uomo e neanche la donna e lo dico sebbene questa causa mi sia molto cara non è più tempo di rimettere al centro l'uomo impariamo a diffidare da chi propone un miope e arcaico primato dell'uomo della donna secondo un antropocentrismo deviato che continua a minare ogni tentativo di rafforzare i legami sociali e l'ecologia integrale allora che cosa ci richiama che cosa ci dice di mettere al centro al centro vi sono le relazioni le relazioni dell'uomo con se stesso con una trascendenza comunque la si intenda con gli altri uomini con il creato con l'ambiente che ci circonda con le generazioni future questa è ecologia integrale ci rendiamo conto della sfida che abbiamo dinanzi a noi perché oggi proprio quando si è capito che la crisi climatica il riscaldamento globale è in ogni senso un problema collettivo l'umanità si trova invece ci troviamo alla merced di una cultura dominante che ha estromesso l'idea di tutto ciò che è collettivo di tutto ciò che è insieme di tutto ciò che è comunitario perché prevale esclusivamente una visione individualista e qui veniamo brevemente alle difficoltà anche della politica di assumere questo modo di guardare la crisi climatica esiste una divergenza tra ciò che è scientificamente necessario e ciò che è politicamente opportuno questo è un dato di fatto quando siamo di fronte a un grosso problema come la crisi climatica che può essere risolto solo collettivamente diventa decisivo il grado di fiducia che noi nutriamo nei confronti delle istituzioni politiche che è la forma più importante di azione collettiva che finora conosciamo la fiducia nel sistema politico è cruciale per la sostenibilità anche perché la sfiducia nella politica alimenta il pessimismo sul futuro e allora attenzione ad esempio a questa campagna elettorale permanente nella quale la politica si trova che certamente non aiuta perché il politico fino a qualche decennio fa aveva un orizzonte temporale di medio termine che era il suo mandato amministrativo o se andava bene la durata di una legislatura oggi come oggi l'orizzonte temporale dell'azione politica è dettata dal marketing politico dai sondaggi la dittatura dell'immediato quindi è dettata dagli algoritmi che movimentano i like che movimentano la visibilità il politico oggi ha bisogno di risultati immediati poi le generazioni future ahimè non votano per cui quale può essere l'interesse politico nei loro confronti così come attenzione alla personalizzazione della politica la leadership personale ha ancora più bisogno per confermare le sue qualità agli occhi di noi elettori e di mantenere quindi il suo consenso di interventi rapidi a carattere distributivo piuttosto che di natura strutturale e ovviamente a rese differita per affrontare la crisi climatica servono interventi strutturali coerenti costruttivi proprio di un riformismo ecologista di un riformismo dell'ecologia integrale non di facciata alla personalizzazione della politica aggiungiamo anche il bisogno mediatico di costruire personaggi che sia la Greta Thunberg di turno oppure i giovani di ultima generazione più che di fornire attenzione sociale e politica la politica ha bisogno l'attuale politica che noi stiamo vivendo in Italia ha bisogno anche delle emergenze perché sulle emergenze crea il consenso ma fenomeni eccezionali e ricorrenti come ad esempio le alluvioni possono essere trattate come emergenze io non sono così convinta che il paradigma dell'emergenza tra l'altro aperta parentesi applicato anche ai fenomeni migratori grido della terra e grido dei poveri chiusa parentesi aiuti a interpretare correttamente il problema della crisi climatica le letture emergenziali di fenomeni strutturali da parte della politica rischiano di essere miope e dannose alla lunga diventano funzionali e alla ricerca del consenso etichettare i problemi come emergenza che è un'attitudine propria dello stile populista significa continuare a speculare sulla paura delle persone per massimizzare il consenso ecco nella Laudato Si Papa Francesco ci ricorda che il clima è un bene comune di tutti e per tutti questo porterebbe anche a diffidare da quelle impostazioni politiche nazionaliste ripiegate troppo sui propri confini mi spingo anche oltre affrontare la crisi climatica oggi vuol dire superare l'idea dello Stato Nazione a vantaggio di una rinnovata dimensione di cooperazione e solidarietà internazionale grazie 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 alla dottoressa Tintori anche per questa sottolineatura non cambiamento climatico ma crisi climatica più appropriato anche del paradigma emergenziale piuttosto che emergenza permanente professor Pasini voi scienziati siete stati molto chiari nell'illustrarci i rischi della crisi climatica alcuni effetti già si vedono da noi ma non solo da noi ci sono regioni del mondo particolarmente colpite eppure nel anche il linguaggio anche la comunicazione a fronte di una chiarezza scientifica ormai anche sulla responsabilità umana del cambiamento climatico si fa fatica anche nel linguaggio comune a vederlo come qualcosa che riguarda tutti a differenza per esempio al dirà poi delle sacche dissidenti però del del covid per esempio che era vissuta come realmente un problema di tutti perché c'è questa fatica e come si potrebbe potrebbe anche la scienza contribuire a aiutare a cambiare un linguaggio della comunicazione della crisi climatica noi abbiamo sicuramente grossi problemi a comunicare una crisi che molti vedono come una crisi di lunga scadenza quando abbiamo a che fare con delle emergenze noi come scienziati siamo approcciati alla politica in questo senso per dire che come dire non possiamo andare dietro a tappare i buchi delle emergenze magari con un paradigma tecnocratico ma dobbiamo guardare anche la lunga scadenza cioè certe emergenze potrebbero aggravare la soluzione con certi metodi di certe emergenze potrebbero aggravare la crisi climatica successiva adesso non entro in dettagli poi magari potremo parlarne ma questa difficoltà di comunicazione è importante e ha a che fare col fatto che io dico sempre noi scienziati e giovani andiamo molto d'accordo perché abbiamo un orizzonte di soluzione dei problemi molto lungo come già citato l'orizzonte dei politici quando va bene è di 5 anni ma siamo in campagna elettorale permanente questo cosa vuol dire? Vuol dire che magari si fa campagna elettorale con Twitter no? allora 120 150 non so quanti sono caratteri è chiaro che non puoi cioè alla fine vai a parlare alla pancia agli istinti peggiori dell'uomo e noi scienziati non vogliamo che succeda questo però certo la comunicazione oggi è estremamente difficile anche perché è quasi tutta su internet sul web insomma ormai i giornali non li legge più nessuno veramente i giornali cartacei sono ridotti ad avvoltolare il pesce nelle pescherie insomma siamo veramente a questo livello e allora sul web nascono altri problemi no? si parla non so di camere dell'eco cioè di qualcosa che rafforza le tue opinioni no? quando tu vai a fare una ricerca su due persone vanno a fare una ricerca su Google sul clima uno legge il manifesto l'altro legge il giornale trovano delle fonti completamente diverse insomma e questo è un problema ovviamente per il dato scientifico che deve passare trasversalmente il problema è che noi abbiamo questa mania di leggere il dato scientifico con gli occhiali della nostra visione del mondo allora se è un dato che si raccorda bene con la tua visione del mondo viene accettato anzi rinforza le tue opinioni eccetera eccetera se è un dato che invece va contro quello che tu pensi o lo scarti lo annulli o addirittura cerchi di manipolarlo per portarlo dalla tua parte cose veramente terribili allora ecco in questo in quest'arena come dire noi ci troviamo in difficoltà anche noi scienziati che facciamo anche divulgazione no? perché? perché l'idea è quella di aumentare la cultura scientifica di una popolazione in Italia la cultura scientifica è sempre stata considerata una cultura di serie B da croce in poi insomma l'impostazione delle nostre scuole gentiliana e così via ha visto la cultura scientifica come qualcosa di tecnico per risolvere i problemi concreti ma non con qualcosa che possa contribuire alla tua visione del mondo invece non è così lo sapete bene insomma e allora altro problema la polarizzazione cioè noi cerchiamo di aumentare la cultura scientifica ma questo darà dei risultati tipicamente negli Stati Uniti si sono fatti sondaggi di questo tipo si prendono due campioni di persone tipicamente democratiche e repubblicane con vari stadi di cultura scientifica dall'ingegnere lo scienziato fino all'ultimo uomo della strada sia di qua che di là poi si pone una domanda critica del tipo in gran parte da cosa viene causato il cambiamento climatico il cambiamento climatico recente la risposta esatta che in gran parte viene come dire creato dalle nostre azioni le nostre emissioni di gas sera combustioni fossili eccetera eccetera chi risponde bene non chi ha più cultura scientifica che quindi dovrebbe sapere meglio il fenomeno ma chi appartiene a un certo gruppo di pensiero allora questo per noi è una qualcosa che ci taglia le gambe prima di cominciare insomma però dobbiamo fare qualcosa e fare qualcosa vuol dire continuare nel proprio lavoro vuol dire io non so quale soluzione ci sia a questo però bisogna scardinare assolutamente queste patologie del web insomma ma anche dei giornalisti perché in Italia c'è questa mania di mettere a confronto due opinioni diverse e di fare confusione voi vedete lo spettacolo indecoroso di tanti talk show italiani non ultimo insomma io sono stato invitato recentemente lo raccontavo prima a loro faccio proprio solo questo esempio in a piazza pulita da questo giornalista che si chiama Formigli che ha questa mania di mettere insieme sette otto ospiti in studio allora è chiaro che non vuoi fare informazione corretta quando metti sette otto ospiti in studio e parla uno è chiaro che c'è sempre qualcun altro che gli si sovraimpone con una critica o qualcos'altro no e ero stato invitato perché in studio ci sarebbe stato un negazionista climatico insomma io purtroppo stavo male fisicamente e non ho voluto intervenire poi è stata una puntata indecorosa insomma poi una settimana dopo mi ha richiamato allora adesso sta meglio viene e ha detto senti io vengo solo se sono da solo ma questo è un talk show eccetera insomma alla fine ha accettato ed è venuta una cosa tranquilla insomma i primi otto minuti di trasmissione è stato un botta e risposta fra me e lui credo che sia venuta fuori un'informazione corretta quindi anche da parte nostra dobbiamo in qualche modo rifiutarci perché è un meccanismo perverso insomma quando io parlo con un'altra persona in un dibattito televisivo voglio che questa persona abbia almeno la mia competenza sui cambiamenti climatici non possiamo osservare persone che si presentano come esperti ed esperti non lo sono insomma andare a fare un dibattito in tv perché perché i dibattiti si fanno sulle riviste scientifiche internazionali allora se tu non hai la come dire la competenza per andare a fare un dibattito per entrare nell'arena scientifica poi non puoi spingermi a fare chiacchiere da bar in un talk show insomma quindi per noi è molto difficile come dire navigare in questo mondo della comunicazione anche perché non siamo esperti della comunicazione insomma facciamo altre cose però ecco cerchiamo di evitare i rischi insomma io spero che anche il giornalismo italiano cominci a come dire pensare diversamente insomma tutto qui grazie grazie davvero al professor Pasini anche appunto per questo coraggio anche di contestare delle regole comunicative che finiscono per fare anticomunicazione invitare uno scienziato e un esperto e confrontarlo con un negazionista climatico quando evidentemente la comunità scientifica è concorda sulla responsabilità umana del cambiamento climatico significa far sembrare che ci sia un dibattito scientifico ma non c'è un dibattito scientifico c'è un dibattito tra chi fa scienza e chi la scienza non la conosce quindi è un'altra cosa o almeno non conosce la scienza del clima poi può essere un grande fisico nucleare per carità però insomma lasciamo stare esatto esattamente non conosce quello di cui si sta parlando esatto professor Farinelli lei diceva prima ma il modello non è più rispondente da dove partire e che cosa potrebbe aiutarci per costruire un modello differente che tenga conto di quella che lei definiva la dinamicità dei processi e la profondità è vasto programma come si dice in questi casi a me pare che vi sia un parallelismo tra quello che accade è la nostra perdita progressiva di memoria tanto per cominciare oggi uno studente che vuole studiare la filosofia antica se la passa piuttosto male faccio il primo esempio appunto che mi viene questo dipende dal fatto che non si concepisce come in realtà su questioni così drammatiche urgenti che interessano tutta l'umanità questioni umanitarie come quella del clima ogni 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 molecola di memoria può diventare preziosa perché ne va del destino complessivo dell'umanità e quando si tratta di questo quando il problema si pone a questo livello io credo che sia davvero un peccato rinunciare alla profondità della memoria perché appunto ne va del pensiero cioè ne va di quella panoplia di quella serie infinita di modelli che nel corso della storia l'umanità ha messo in campo sempre con l'unico problema di fare i conti con ciò che ti trovi di fronte insomma ne va del destino stesso della popolazione umana su questo pianeta cosa che naturalmente molti scienziati giudicano questione non la più rilevante tra tutte perché in ogni caso se anche la razza umana scomparisse dalla faccia della terra la terra continuerebbe a esistere con altre forme viventi e questo è già dunque io direi intanto questo che esiste un nesso indissolubile tra memoria e futuro non esiste un futuro che non abbia bisogno di memoria e viceversa e questo è uno dei credo sia uno delle cose che la nostra cultura così come nei millenni è stata organizzata si è evoluta ed è stata trasmessa ci consegna sistematicamente strutturalmente nesso che oggi tende a sparire tende comunque a riconfigurarsi secondo forme pratiche di istruzione che come dire sono periferiche rispetto alla centralità di questo problema perché avere dei modelli in testa significa poter sopravvivere una volta si chiamava cultura adesso bisogna dire modelli perché altrimenti si è demodea ma di questo si tratta io credo che proprio questioni di urgenza fisica materiale come quella di cui stiamo cercando di discutere innanzitutto pongono all'ordine del giorno esattamente questo problema vale a dire il rapporto che esiste tra memoria umanità umanità e sopravvivenza non per caso il genere si inizia con una grande catastrofe e la cultura della catastrofe è una cultura che ha sempre accompagnato nel corso della storia dell'evoluzione umana la quale è sempre stata letteralmente una serie di catastrofi cioè di rivolgimenti naturalmente il problema è trovare il filo di questi rivolgimenti cioè trovare non semplicemente la spiegazione trovare il senso di tutto ciò e di questo si tratta ancora oggi si tratta di questo anche credo per il politico il problema sia la questione del senso non esiste un discorso politico che innanzitutto non debba giustificarsi nella maniera con cui si presenta se non in termini di senso o di ricezione del senso o di approvazione del senso evidentemente ora quanto questo appunto si diceva anche prima inutile ripeterlo qui quanto questo sia contrario a una riflessione autentica cioè a una memoria autentica e questo accade 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 normalmente diciamo accade normalmente cioè voglio dire nella nella questione fisica del clima e delle sue evoluzioni sempre appunto tenendo conto come c'è stato anche qui ricordato autorevolmente tenendo conto che il clima è per definizione per natura un processo dinamico e dunque che cambia in continuazione si deposita è come se si depositasse una sorta di di profilo della storia stessa dell'umanità quando non voglio tornare al modello che ho fatto prima ma in questi giorni appunto che sono di riflessione intensa su questi temi plurale e quella storia che vi dicevo prima che narrava Ferecide le nozze tra il cielo e la terra davvero torna prepotentemente all'attenzione nella sua semplicità nella sua però attenzione nella sua straordinaria forza la terra diventa un'altra cosa quando si sposa con il cielo diventa un'altra cosa non la conosciamo più perché sopra un velo noi possiamo conoscere questo velo ora si potrebbe continuare a lungo e faremmo la sera non è il caso naturalmente ma il problema è che ci voleva un disastro per ricordarci questo cioè per ricordarci che cosa insisto sul punto perché mi pare essenziale che ora la natura stessa ci dice che ora che noi cambiamo idea modello su ciò che creiamo la natura sia per esempio così come l'abbiamo interpretata così come l'abbiamo conosciuta la conosciamo così come la mettiamo a frutto evidentemente nel nostro rapporto ma d'altra parte scusate ma appunto si citava gli algoritmi ma nel mondo della cibernetica perché noi abbiamo ancora un'idea di natura che è ancora sostanzialmente quella degli uomini tra il 1500 e il 1600 di 5-6 secoli fa quando appunto esistono saperi che sono straordinariamente produttive le cui implicazioni coinvolgono l'intera vita umana che si fondano su principi completamente diversi di qui la necessità di cambiare idea di cambiare modello di passare a una comprensione di natura di tipo diverso e come si fa ecco perché la memoria chiudo ecco si ricostruisce cosa che nessuna scuola fa mi dispiace dirvelo insomma ma nessuna scuola può più permettersi il lusso di fare davvero per pazientemente risaminare i modelli e vedere ciò che abbiamo nel corso dell'evoluzione umana e del cosiddetto progresso tralasciato ma che era stato compreso di questo si tratta secondo me la radicalità del problema climatico sta esattamente in questo può darsi che da vecchio umanista io mi illuda che gli umanisti avessero compreso qualcosa e prima degli umanisti degli umanisti anche quei filosofi presocratici come a scuola li abbiamo studiati ma certo c'è una continuità c'è un filo che lega tutto questo perché il disastro l'inondazione non è una cosa ripeto si iscrive all'origine stessa del Genesi comincia così la nostra storia con un immane disastro a partire dal quale però si riorganizza il complesso di una trama di saperi di pratiche di conoscenze di credenze belief credenza cioè di modelli di modelli e di questo abbiamo bisogno oggi più che mai credo proprio perché la vulgata quella che ogni giorno ci fanno vedere è come in realtà le macchine si avvino a sostituire l'uomo di che è vero in alcune mansioni e sarà sempre più vero ma allora resta il grande problema a che cosa l'umanità serve e che senso abbia tutto ciò signori il crodo si salta come si dice è qui è qui il clima ogni tanto ci ricorda che questo è il problema poi possiamo bagnarci noi insomma grazie mille grazie professor Farinelli grazie per averci ricordato l'importanza della memoria e di abbinare insieme di utilizzare vari saperi per comprendere la natura non solo quello più immediato la soluzione tecnica dottoressa tintori quando si parla di crisi climatica si ha un po' essendo appunto un problema enorme come abbiamo detto qua più volte si ha un po' la sensazione di sconforto di lasciarsi andare e dire ma tanto io non posso fare niente è corretto questo o c'è qualcosa che possiamo fare e dobbiamo fare per contribuire ad arginare la crisi climatica grazie sicuramente ciascuno di noi può fare la sua parte nell'enciclica laudato si Papa Francesco non si rivolge solo ai cattolici nemmeno ai cristiani Papa Francesco si rivolge a ogni persona che vive sulla terra si rivolge a ciascuno di noi e non parla di salvaguardia del creato parla di cura della casa comune che non è di qualcuno ma è di tutti e la cura la cura integrare la cura del grido della terra e del grido dei poveri evoca il dono apre alla progettualità la cura è lungimirante perché sa vedere ciò che ancora non c'è la cura genera e alimenta la comunità il nostro vivere insieme anche il nostro vivere civile allora come alimentare la speranza sociale come evitare di non deprimersi dinanzi a questi temi perché il rischio è reale hai proprio ragione è proprio così io penso che ci vengano in aiuto due attrezzi due dimensioni la prima è quella della spiritualità la conversione ecologica si fonda sulla spiritualità abbiamo bisogno di riscoprirla che poi è la terza dimensione che è la profondità la terza dimensione del nostro essere noi solo con altezza e larghezza non stiamo in piedi l'uomo la società per reggersi in piedi hanno bisogno di profondità di spiritualità che non è religiosità è un'altra cosa noi nella conversione complessità del tempo presente stiamo anestetizzando l'interiorità viviamo in superficialità rischiamo di specchiarci sul dorso del mondo riflettendo sempre solo noi stessi ecco per riscoprire la spiritualità abbiamo bisogno di capacità di meravigliarci di fronte alla vita di accettare l'immersione nel mistero che fa parte della vita stessa di accettare anche le catastrofi abbiamo bisogno di riscoprire il nostro essere specie spirituale l'uomo è una specie spirituale ecco il desiderio di trasformazione sociale senza vita interiore credo che renda vano il lavoro compiuto anche se animati da grandi ideali e la spiritualità si compone di profezia che è la lotta per la giustizia ma anche di misticismo che non è altro che l'esperienza dello stupore e della meraviglia quindi per animare la speranza sociale riscopriamo la nostra profondità la nostra spiritualità il secondo strumento che penso ci venga in aiuto è proprio un'etica ecologica in etinere non ideologica non non è davvero per slogan ma un'etica ecologica realistica cominciando da ciò che è più concreto e locale che poi è l'etica della compassione e della solidarietà solo la solidarietà vedete impedisce la biforcazione dell'umanità tra il mio mondo e quello degli altri la solidarietà è ciò che conferisce spessore alla dimensione collettiva dell'esigenza etica la compassione è basata su un'acuta percezione dell'interdipendenza di tutte le cose viventi che sono tutte parte le une delle altre sono tutte coinvolte a vicenda e qui torna il tutto in relazione dell'ecologia integrale l'etica per l'ecologia integrale è un'etica della correlazione dell'et et e non dell'esclusione dell'out out anche per questo penso che sia tempo di uno sguardo diverso ad esempio tra le generazioni noi rischiamo di ghettizzare le generazioni di procedere di pensarci a compartimenti stagni proviamo invece a cambiare il modo di parlare allontanando perché no il disprezzo per alcuni gruppi solo perché giovani o solo perché anziani solo così forse recupereremo quella saggezza collettiva quella dimensione comunitaria dell'esigenza etica che la complessità del tempo presente su questi argomenti richiede solo così un futuro migliore non solo sarà possibile ma sarà anche probabile e vi dirò di più non sarà solo probabile ma anche prossimo perché ciascuno di noi insieme avrà scelto di fare la sua parte grazie 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 alla dottoressa Tintori grazie anche per questa sottolineatura della spiritualità che dà un nuovo spunto con cui è una nuova domanda che vorrei porre al dottor Pasini anche se il tempo ahimè tiranno però abbiamo ancora qualche minuto per approfittare dei nostri bravi relatori professor Pasini diceva Chiara Tintori la spiritualità parlava di spiritualità ecologica di conversione ecologica di solidarietà di etica scienza e religione scienza e fede sono stati visti a lungo in tutta l'epoca moderna come antitetiche da una parte la scienza dall'altra la religione sul clima sulla crisi climatica e di fronte alle enormi sfide ecologiche possono in qualche modo tornare ad essere alleate per la custodia di questa casa comune che riguarda tutti e tutte ma io credo assolutamente sì da vari punti di vista innanzitutto la laudatossia ha una base scientifica molto solida ma soprattutto l'idea di papa francesco quando dice tutto è connesso tutto è in relazione con quasi quasi una una rivincita ontologica della relazione rispetto all'essenza all'essere insomma sicuramente dà uno spunto diciamo è assolutamente consono con quello che pensa la scienza moderna dei sistemi complessi il clima è un sistema complesso cioè la relazione è importantissima le relazioni tra i vari membri e qui c'è da un lato la natura dall'altro gli uomini i gemiti della natura sono i gemiti della terra e degli uomini dei più poveri e così via quindi questo questo pensiero è assolutamente moderno e consono in armonia assoluta con quella che è la dinamica dei sistemi complessi come il clima quindi io credo che su questo si possa addirittura fare un'alleanza insomma nel senso che lo sapete benissimo oggi il Papa è l'unica autorità morale mondiale che parla di queste cose in maniera corretta dal punto di vista scientifico quindi il futuro lo vedo lo vedo come una collaborazione assoluta insomma assolutamente grazie grazie mille e chiederei al professor Farinelli quello che mi affascinava quando la sentivo parlare era questa sua capacità di fare il ricorso al simbolo al mito a un'altra forma di sapere che ci aiuta ad affrontare la complessità del problema e riflettevo anche sul fatto che molte popolazioni differenti per cultura da noi che hanno una maggior connessione con la natura che hanno sviluppato questa maggior connessione hanno una cultura profondamente simbolica e mitica penso molto spesso alle popolazioni indigene che hanno un rapporto affettivo con la natura lei pensa che qualche modo allargare lo sguardo quindi non solo ha la complessità dei saperi che già abbiamo e che vengono dalla nostra storia ma anche da altre culture appunto quelle dei popoli originali possano aiutarci ad ampliare e a cambiare questo modello immagino che dovrò rispondere in maniera telegrafica purtroppo io no dunque il problema è il problema è che la cultura occidentale ha vinto e le altre culture sono residue c'è poco da fare non possiamo negare questo dato di fatto l'unica speranza potrebbe essere quella del reintegro da parte della cultura occidentale degli altri saperi oggi che si sconta drammaticamente appunto l'incapacità della nostra cultura di far fronte al dato ambientale ma ai problemi che essa stessa suscita ma di nuovo parliamo di un'intelligenza che riflette su se stessa il problema è che i soggetti che agiscono in questa direzione tolta la chiesa sono pochi molto pochi sono molto pochi e spesso minoritari come per esempio culture minoritarie che cercano di sopravvivere o cercano di difendersi dallo scontro dagli ultimi esiti dello scontro che è stato già deciso sostanzialmente la cosa drammatica è che ci sono molti enti a livello globale che hanno già introiettato l'idea di prossime catastrofi da questo punto di vista che in qualche maniera se non proprio per scontate le danno possibili e su questa possibilità che continuano ad agire ecco come dire dove si misura la consistenza tragica della realtà in questo momento non è soltanto un problema di cultura di diversità culturale c'è di un discorso antropologico in senso forte il lato del termine è che ci sono soggetti ci sono enti a livello globale che pianificano i propri comportamenti dando per scontati alcune alcuni disastri o come sopportabili come un prezzo da pagare e non esiste la possibilità di ricondurre l'azione o il pensiero di questi soggetti ad un unico tavolo di trattativa qui da un lato come dire la chiesa è l'unica entità a cui ci si possa riferire le chiese ma non riescono a coprire o a esaurire il panorama complessivo guardate noi siamo ancora all'interno di una tragedia concettuale che è quella del passaggio dalla dalla mappa alla sfera al globo cioè non so se avete fatto caso sulla globalità anche l'economist insomma si la globalità però adesso un po' in recessione un po' in crisi non è affatto vero cioè ciò che viene scambiato per le crisi sono in realtà gli effetti molto facilmente prevedibili proprio del processo del progredire della globalizzazione che si tratta di passare da un mondo fatto di due dimensioni a una sfera il problema è che topologicamente cioè matematicamente la sfera e il piano non sono conciliabili cioè per quanti sforzi uno faccia non riesce mai a trasformare una sfera in un piano e viceversa qualcosa si perde in questa traduzione questo è il dato drammatico cioè a segno di che cosa del fatto che noi non siamo abituati a fare i conti con la sfera il globo che se ci fate caso adesso adesso meno ma fino a qualche anno fa la sfera compariva a mezzanotte nelle televisioni private ed era l'ambito dei fattucchieri i maghi compariva finalmente la sfera no la sfera è la nostra condizione terrestre in questo momento e non consola affatto sapere che non ci sia nessun soggetto dotato di potere materiale in grado di capire come funziona questo purtroppo va detto non c'è una possibilità di gli stessi eventi in Ucraina si spiegano così in Ucraina è davvero è davvero il caso esemplare di un mondo pensato per stati cioè bidimensionale che si scontri invece con la nuova dimensione del funzionamento del mondo che è tridimensionale sferica e non c'è niente da fare non si possono conciliare ma che l'umanità passi da un'idea di mondo ad un'altra è un'operazione probabilmente dolorosissima e i punti cioè i soggetti le idee a cui aggrapparsi sono molto poche sono molto poche sono molto pochi i soggetti in grado di come dire favorire il passaggio di aiutare il passaggio la chiesa è uno di questi e forse è quello meglio attrezzato culturalmente attenzione perché perché ha più memoria perché ha più memoria è portatrice di un nella sua semplicità di un messaggio molto complesso e questo è il punto vero che riesce da millenni a trasformare in semplicità ma 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 e vi è bisogno di questi soggetti forti in questo momento perché la transizione il passaggio in cui noi siamo senza vederci ogni tanto il clima appunto ci ricorda siamo ingolfati siamo immessi e di una tragicità di una potenza straordinaria che noi riusciamo a controllare soltanto con la nostra ragione non ce la facciamo non ce la facciamo vabbè potrei continuare per ore ma non è il caso grazie grazie una battuta di speranza dottoressa Tintori per andare a casa c'è una nota di speranza in questo panorama complesso complicato tragico per certi aspetti assolutamente già prima quando tracciavo le linee di questa cura della casa comune cioè della spiritualità di un'etica ecologica in itinere in parte ho detto che la speranza siamo noi insieme nel momento in cui ciascuno sceglie di fare la propria parte e per sognare in grande occorre far parte di una soluzione solo quando si agisce già il vostro essere qui oggi questa sera dice un'azione un essersi messo in gioco solo quando si agisce cresce il coraggio mentre quando si tentenna quando si rimanda cresce la paura non lasciamo che la paura abbia la meglio neanche su questi temi continuiamo a formarci a informarci a confrontarci a dialogare ringrazio tantissimo il festival biblico per questa occasione perché il dialogo è possibile quando uno riconosce che il proprio pensiero è incompleto quindi grazie davvero anche a Lucia perché tutto questo è stato possibile perché ciascuno ha messo a disposizione le proprie competenze la propria intelligenza la propria emozione anche l'intelligenza emotiva grazie a voi perché avete seguito davvero con tantissima posso dirlo perché da qui si percepisce empatia questa serata la speranza risiede ancora in tutti noi insieme grazie 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 a tutti voi la direttrice oh beh che annuncio in realtà vi chiederei di continuare il vostro applauso per i nostri ospiti qui abbiamo dei treni da prendere per cui veramente chiudiamo nel senso che quello che avete ascoltato stasera è il mestiere che facciamo e il passaggio che lei ha fatto dottor Pasini è stato eloquente e declatante in questo cioè un'informazione pulita cioè volere fare davvero informazione però badate bene non dentro una bolla per autoconfermarci e darci ragione questo sarebbe altrettanto pericolosissimo di chi fa caos o confusione per cui ecco è importante la vostra partecipazione perché è anche un'adesione una partecipazione a un qualcosa che vuole essere anche un poco scomodo portate pazienza il festival biblico è anche un poco scomodo gradevole ma scomodo allora qualche avviso perché siamo proprio nella fase conclusiva di questo appuntamento alle 19 qui c'è lo spettacolo concerto e narrazione dell'uomo che plantava gli alberi all'appuntamento conclusivo di tutto il festival regionale che peraltro accade in contemporanea con la sede di Treviso che invece ha organizzato un concerto sulla sinfonia di Aiden della creazione per cui chiudiamo in queste due sedi questo mese di eventi live del festival biblico quindi non vi mandiamo via calci da qui assolutamente però se vi va potete uscire per andare al festival biblico e bere qualcosa di buono di fresco e tornare verso le 19 perché ora il coro il cenobium vocale si assesterà si sistemerà farà alcune prove e un po' vi guasterebbe un pochino di sorpresa posto ce ne sarà per tutti per chiunque vorrà partecipare più tardi grazie ai nostri ospiti e chiedo a un volontario se magari si avvicina c'è già l'autista per Lucia e il professor Farinelli Mario laggiù lo dico forte così siamo tutti coordinati organizzati e sollevati non perdete il treno davvero grazie grazie viva a più tardi grazie a tutti 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 grazie a tutti